Pronti, 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 arriva la Super Live sul nostro canale, mercoledì 22 novembre alle ore 18, una Super Live dove parleremo di tutto quello che sono stati i risultati che sono stati creati da me e dalla mia Academy, ragazzi, nell'anno 2023, ma il focus sarà sulle strategie utilizzate e che cosa stiamo facendo adesso per cercare di cavalcare la prossima burrana e soprattutto quella delle alt season. E sì, perché ragazzi, noi abbiamo già parlato della questione legata all'alt season quando vi ho fatto vedere, per esempio, questo grafico importantissimo dove noi ne abbiamo parlato già ma lo rivediamo anche nel video di oggi. In pratica, questo è un grafico che sta indicando un punto di breakout estremamente importante delle altcoin, non bitcoin, ragazzi, questo è un grafico che parla delle altcoin, nella total market cap delle altcoin, escluso ovviamente anche Ethereum, escluso le stablecoin. Quindi qui ci sono depurati i dati relativi al cripto, ovviamente hanno un peso le cripto nella top 10 maggiore perché non sono state ponderate, però il significato sostanzialmente che si sta per avvicinare probabilmente un periodo florido dove potremmo assistere a degli incrementi notevoli anche nell'ambito delle altcoin. E vi ricordo che l'ultima volta nella precedente bull run questa struttura e questo grafico ha indicato un rialzo dai minimi, diciamo dai massimi della total market cap escluso Ethereum, Bitcoin e stablecoin del 3345%. Magari non sarà così, magari dovremmo fare stock picking, o crypto picking in questo caso, quali saranno le crypto top? Ne parliamo mercoledì, ragazzi, immancabile alle ore 18 dal vivo e voglio una grande partecipazione perché ci sarà una super sorpresa alla fine per tutti quanti, ma ovviamente mi interessano anche le vostre domande perché scambiandoci opinioni con le domande riesco a chiarire tanti dubbi che ci sono in questo momento sul mercato. Save the date e vi lascio il link in descrizione per partecipare alla webinar del 22 novembre alle ore 18. Trovate il link in descrizione, compilate nome e mail, iscriviti, bam, poi vi riceverete insomma via mail il link quando diamo in live. Immancabile, torniamo a Bitcoin News della settimana, il nostro Bitcoin Mondays, che cosa sta facendo, dove siamo arrivati, qual è l'altcoin, la crypto della settimana, che già ve lo spoilerone solana, andremo a vedere questa settimana, il grafico di Bitcoin contro il dollaro, ma il future sul CME. Che cosa ci dice, quali sono le informazioni? Allora, bando alle ciance, subito, velocemente, andiamo a vedere quelli che sono i dati macroeconomici attesi per questa settimana, che però non sono tantissimi e soprattutto non sono di grande rilievo, soltanto i verbali della riunione del FONC delle 8 di domani, 21 novembre. Per il resto, ragazzi, sui siti di disoccupazione, visti sempre nello stesso modo, sembra che ormai a livello di natura macroeconomica stiamo andando verso un soft landing, ormai affermato, ne abbiamo parlato, se vi ricordate, gennaio 2023, ragazzi. Vi ricordo anche una live mia sul canale con Marco Casario, che effettivamente parlavamo di questa cosa, del soft landing, e un pochettino ero l'unico che diceva queste cose, vedete che c'è la possibilità. Adesso alcuni stanno dicendo che il soft landing sarà anche protratto per il 2024, io non sono convinto di questa cosa ancora del tutto, ma ci vuole un po' di tempo e quindi aspetto prima di darvi la mia opinione. Allora, detto questo, non ci sono grandi dati, quindi secondo me da questo punto di vista dobbiamo, diciamo, possiamo sorvolare. L'unica cosa, forse bisogna controllare la questione del 23 novembre, i mercati saranno, Stati Uniti sarà chiuso per il giorno di festa del ringraziamento, quindi ricordatevi anche che quando Stati Uniti sono chiusi, i mercati sono sottili, si dice così, quindi i movimenti sono come la domenica in sostanza. Andiamo a vedere l'andamento di Bitcoin, anzi vi faccio vedere quello che è il grafico standard che noi andiamo a guardare sempre. Ok, ci siamo, ci sono riuscito. Allora, questo grafico ci dice che in pratica, ragazzi, la struttura del trend è rimasta assolutamente invariata e soprattutto, guardate ancora una volta come le mie due medie mobili, quelle a 21 e a 11, hanno trattenuto e hanno funzionato alla grande. Tra le altre cose, nel corso Basic 2.0, ragazzi, io ho fatto proprio una lezione dove spiego le medie 21 e 11, come vanno utilizzate e perché le utilizzate, e tra le altre cose, vediamo se riesco, se ve lo prendo, ve lo prendo. Bam! Allora, l'utilizzo di quelle medie è una tecnica che è ripresa da questo libro di Elder, ragazzi, quindi se volete comunque leggere un grande librone, mi raccomando, non lo vivere i treni col consiglio da anni, ma, insomma, è famosissimo. Questa tecnica, questo utilizzo di queste medie è ripreso da quel libro lì e ha, ovviamente, un po' aggiornato, un po' lavorato, adattato a quelle che sono le cripto, però sostanzialmente è quello. Da un punto di vista tecnico, quindi, qui, su questa zona, che è stato fatto anche un minimo, minimo che è stato fatto nella giornata di martedì 14 di novembre, tra le altre cose, questo minimo ha dato un aipone, proprio gigantesco, il giorno dopo, con un pump and dump classico, che, secondo me, insomma, è di solito sinonimo di una chiusura ciclica in queste zone. Allora, è possibile, è possibile che sul minimo del 14 di novembre sia stata completata, sia stata completata la chiusura del ciclo mensile di Bitcoin, e quindi, a questo punto, non un ciclo lungo, ma un ciclo classico, da 34 giorni, con un totale di 64 giorni, che è un po' pochino per il trimestrale di Bitcoin, e quindi dovremmo attendere. Ho un'altra ventina di giorni iniziato proprio qui, che va a chiudere il trimestrale, oppure, ragazzi, resta ancora in atto la famosa view, che vi dicevo io, di un trimestrale un po' più corto, con un mensile che si va ad allungare a 45 giorni, diciamo che sono due mensili corti insieme, ecco, diciamolo così, che però qui sarebbe iniziato l'ultimo movimento, che in pratica sta facendo questi pump and dump, per poi chiudere questo movimento, che, attenzione, non è detto che vada a fare una chiusura pronunciata al ribasso con il ribassone, non è assolutamente obbligata a una cosa del genere, può tranquillamente fare questi up and down di barre di congestione, ci stanno alla grande con le chiusure cicliche, e non c'è problema da questo punto di vista, ragazzi, perché a quel punto poi il mercato potrebbe in effetti dichiarare la chiusura di un ciclo trimestrale proprio in barre di congestione, ovviamente, magari mi aspetto che ci avviciniamo un po' a questa zona, era intorno ai 35, quindi magari mi aspetto un ritorno intorno ai 36, 35,2, 35,4, questa zona qua, però senza grandi, diciamo, pieghe, ecco, diciamo così. Allora, questa cosa io la tengo sempre in considerazione, è prevista teoricamente per la fine di questa settimana, ne parliamo, però, però, dal mio punto di vista, un eventuale breakout e superamento dei 38 mila dollari indicherebbe che il mensile è stato chiuso qui e siamo in un nuovo mensile, quindi l'ipotesi 1 che abbiamo detto oggi, quindi mensile chiuso il 14 di novembre, siamo nel nuovo mensile, possiamo fare nuovi massimi, se brecchiamo i 38 per me è l'ipotesi 1, se invece il mercato stenta ancora, attenzione a questa settimana che potrebbe in effetti crearsi in questo modo e poi dare spazio proprio da sabato, domenica in poi, allo sviluppo invece di un trend nuovo che a quel punto apparterebbe al nuovo trimestrale, a tutte le carte in regola, di andare a creare i massimi dell'anno 2023 per Bitcoin e poi si vede, ovviamente perché? Perché è finito l'anno, perché siamo a dicembre, non perché Bitcoin poi non faccia più massimi, non lo sappiamo, va bene, e di conseguenza, probabile anche in questo frangente, che vadano a pompare quelle che sono le famose altcoin, che vi dicevo anche in questo grafico, perché è possibile da qui magari assistere ad un breakout di questa zona. Secondo me, un breakout, ragazzi, della zona che vi sto dicendo, da parte delle altcoin, sancirà un pump non meno del 20% della total market cap, quindi un pump improvviso, veloce e forte di una settimana, dove alcune altcoin probabilmente faranno numeri importanti, 30-40 punti percentuali, come siamo stati abituati a vederlo. Questo perché il livello di resistenza in questo caso della altcoin è veramente importantissimo e soprattutto questo è un costrutto di barra di accumulazione o anche ridistribuzione, ma in questo momento noi stiamo pensando che sia una riaccomulazione abbastanza importante. Attenzione poi al dopo, no? Perché c'è il classico, magari il pump lo fa, però poi ci fa il pullback, no? In questa zona, quindi sempre capacità di gestire queste cose. Attenzione a queste questioni qui, ragazzi, perché soprattutto nelle altcoin possono essere formati nell'ambito del trading e delle tecniche, perché anche voi facciate, diciamo, operazioni lunghe da 3-4 mesi, senza tecniche di gestione della posizione, non potete farlo, soprattutto sulle altcoin, sono troppo rischiose, ragazzi, e vi perdete dei, veramente, cavalli da corsa straordinari, quindi mi raccomando queste cose, due regolette, un po' di studio, un libro, un corso, mi raccomando, ragazzi, è fondamentale queste cose, perché poi vi cambiano anche l'esito di quelle che sono, magari, il vostro tempo dedicato allo studio dei mercati e due regolette che imparavate in due settimane non vi costavano veramente nulla e vi cambiavano l'esito per i prossimi 20 anni. Ok, questa è una cosa importante. Allora, bitcoin, io la vedo così, quindi settimana stazionaria, solo se saliamo sopra i 38, siamo sul nuovo mensile, altrimenti ancora valida l'ipotesi 2 di fare una zona di congestione minimo in questa settimana e poi eventualmente schizzare su con il nuovo trimestrale, cosa che io prediligo per una questione legata anche ai cicli inversi e la prediligo per una visione di un massimo verso dicembre che lascia più spazio al mercato. Invece in questo momento siamo, secondo me, tirati. Se infatti anche dovessimo andare a fare nuovi massimi nell'ultimo mensile del trimestrale in questione, dovremmo poi ricordarci che dobbiamo chiudere il trimestrale, quindi a quel punto siamo tirati. Quindi è possibile in effetti che il massimo sia leggerino, no? Quindi io prediligo la seconda ipotesi, ma poi come sempre il mercato fa quello che gli pare e questo lo sappiamo. Criptovaluta della settimana solana. Andiamo a fare un aggiornamento su quello che ha fatto solana in questo periodo e soprattutto questo grafico settimanale, quindi lo vedete veramente imperterito. Attenzione, qualcuno di voi può voler assistere ad un remake di questa cosa, vi faccio vedere la questione. Allora, se io tornassi indietro su Solana e mi metto in questo modo, quali sono le differenze tra questo e questo grafico? Cioè, queste barre di congestione e questa struttura di congestione la stessa identica, un minimo più basso, poi una struttura di congestione fatta così, attenzione a questo minimo che era dopo il caso FTX su Solana, quindi ok, lo consideriamo, ma con le pinze. che cosa cambia da questa struttura che io vedo qui sull'Altcoin, ok, anche qui, cosa cambia da questa struttura che io vedo qui? Cosa cambia? Niente. Allora, non cambia assolutamente niente se non quattro cose che diciamo nell'ambito dei mercati non sono rilevanti. Fatto sta che dopo il breakout, che cosa abbiamo visto su Solana? Il breakout è avvenuto nella settimana del 23 di ottobre e dopodiché il pampone gigantesco su Solana. Perché? Perché questi sono atteggiamenti 100%, vedete ragazzi, 100% dopo il breakout di questa barra di congestione. Questi sono atteggiamenti ridondanti, reiterati dai mercati, soprattutto se analizzati su grafici a time frame elevati. Ho fatto l'edizione venerdì, ragazzi, ho fatto il video dove spiegavo gli errori da non fare questa volta nell'ambito della Bull Run se dovesse arrivare 2024. Già abbiamo visto un buon inizio, diciamo, se il buongiorno viene dal mattino, diciamo, dovrebbe essere una bella Bull Run, però, nonno, vi dicevo di non fare gli stessi errori, di andare a considerare i cambi trend e tutto il resto. Anche nel caso di Solana questo è avvenuto in maniera impeccabile e la stessa cosa potrebbe avvenire sul grafico delle altcoin che quindi significherebbe, quello è un indicatore, diciamo così, non possiamo tradare tutte le altcoin, significherebbe che siamo entrati, entriamo in altseason, cosa che ancora non è avvenuta ma siamo là, nel tentativo di breccare questa cosa. L'ingresso in altseason abbiamo solo tre mesi poi per cavalcare l'onda perché altseason dura pochissimo quindi è uno sprintone, no, questo qui. Allora, questa zona qua ha indicato anche su Solana una, veramente, un grande IPB. Dicevo la stessa cosa con la resistenza a 48, vi ho detto, se è breccata ci avviciniamo ai 77, non ha toccato i 77 perché il margine forse era troppo elevato però comunque ci si è avvicinata 67 vicino quindi 37 punti percentuali soltanto nell'ultimo video che avevamo visto su Solana questo giusto per dire ragazzi come questi grafici che sono di lungo periodo non da trader puro va bene? Io quando parlo qui su YouTube ragazzi non parlo sempre di trading quello della operazione di due ore io qui vi parlo comunque di utilizzare tecniche di trading strategie di trading che ovviamente si apprendono lì per fare investimenti medio-lunghi non per fare investimenti per fare trading da qui a domani che è un discorso diverso se volete quello lo facciamo l'abbiamo fatto nei vari trading contest vi ricordo ne abbiamo fatti tre trading contest con TradingCon vinti tutti quanti ragazzi quelli del mio team tra le altre cose ho idea di riparlo a dicembre quest'anno quindi questo per l'anticipo facciamo il Christmas TradingCon Contest anche quest'anno ci divertiamo insieme a un giorno di festa e facciamo trading per un giorno e vediamo che cosa portiamo a casa allora questa cosa qui ci dice in pratica che Solana dovrebbe chiudere a momenti un trimestrale se la rindondanza di questi cicli che vi ho disegnato sono validi ma poi attenzione perché dovrebbe partire l'ultimo trimestrale dell'annuale ora la questione qui si irrigidisce perché ragazzi intanto Solana ha performato tantissimo una fase di riposo non è anomala però c'è anche da dire che le crypto ci hanno abituato nelle fasi di pump ad avere dei cicli che non sono così visibili perché questo ovviamente se siete analisti ciclici che venite per esempio da altri ambiti mi sembrerà un po' strano anche se lo standard plus 500 è un altro accento negli ultimi anni mi hanno abituato probabilmente a non vedere la fine dei cicli lunghi perché erano ipermanipolati dalle emissioni di liquidità però nel momento in cui abbiamo i pump sulle crypto su nel mondo crypto questi pump non si vedono i finali dei cicli perché se siamo in alzisono la fine di un ciclo la fa in barra di congestione minuscola non fa neanche il minimo e questo un po' vi può forviare quindi open your mind anche in questo caso se siete analisti ciclici e non venite dal mondo crypto mi raccomando il mondo crypto un po' è diverso da questo punto di vista quindi beneficio del dubbio come sempre c'è ogni tecnica che viene utilizzata perché è fondamentale ed è giusto così allora qui siamo nella struttura anche dei famosi quadranti che io vi dicevo c'è una zona tendenzialmente che è stata questa che è una zona di long qui in questo caso è stata fatta un'affigurazione che io amo chiamare lo stivale la scarpa un giorno un giorno vabbè dai ok ragazzi c'è anche una lezione un giorno parliamo di queste cose e poi sono un po' creativo allora e questa zona poi dovrebbe teoricamente essere la fase finale del ciclo in sostanza solana dovrebbe chiudere il trimestrale fare l'ultimo pump e poi tendenzialmente andare in chiusura del ciclo annuale che a questo punto con il breakout di questa barra ha dichiarato essere stato chiuso a novembre del 2023 in solitaria da solo perché scusate dicembre 2022 mi ricordavo in solitaria da solo perché bitcoin l'ha chiuso a novembre e questo dovuto alla questione ovviamente di RTX ha fatto una struttura una lingua di buyer estremamente profonda che è arrivata da qua dal 7 novembre al 26 di dicembre e ha spasato la struttura ciclica tant'è vero che io questo coin questa cripto non l'ho tradata proprio perché sapete sono estremamente prudenziale quindi non volevo tradarla ho tradato le altre ma soprattutto bitcoin devo dire la verità quest'anno e poi diciamo va bene così ragazzi poi anche se a me piaceva perché è sempre stata una delle mie coin da cavallo da battaglia qualcuno di voi si ricorda nel 2020 è stata la mia cripto per eccellenza è una live degli avengers quella fatta con il canale di coinsquare anni orsono 2019 parlavamo proprio della di solana me lo ricordo bene dove io dissi che era la mia cripto dell'anno e mi piaceva questo progetto poi col macello che è successo ovviamente l'ho un po' accantonato vediamo se riuscirà a riprendere i diciamo dati adeguati anche perché poi bisogna controllare la questione del progetto i dati on chain quanta liquidità hanno sotto i progetti che stanno sviluppando quindi diventa più fondamentale poi in un'analisi tecnica qui il trend è rialzista poi se può performare meglio eccetera bisogna fare l'analisi del progetto e vedere che cosa stanno sviluppando e se questi rialzi sono sostenibili questo è un altro tipo di logica però la questione a livello tecnico ci dice che ciclicamente dobbiamo andare a chiudere un trimestrale poi la partenza del nuovo trimestrale potrebbe in effetti coincidere con un altro pump attenzione perché ancora qui se il trimestrale lo chiude la settimana prossima siamo proprio a fine mese di questa settimana qui magari lo fa insieme a bitcoin con quel costrutto cioè questo è il mio punto di domanda ed è un punto di domanda importante attenzione perché se succede questo abbiamo tutte le informazioni per capire quello che sta succedendo da qui a fine settimana e muoversi di conseguenza ragazzi perché saranno molte guiotte poi gli ingressi anche su magari altre altcoin e poi vediamo con l'ultimo trimestrale se riesce a fare i massimi perché da una eserciclica potrebbe anche non farli però secondo me non è così in questo caso concludiamo con la visione dell'ultimo grafico che avevamo promesso quello di bitcoin contro dollaro però del future di bitcoin cme che abbiamo visto aver superato l'open interest addirittura dei future di binance questo significa che i volumi finalmente dopo ragazzi sei anni dalla sua nascita cinque anni dalla sua nascita sono arrivati i volumi sul future cme di bitcoin prima era veramente una cosa squallida non c'era nessuno adesso sono arrivati i volumi sui future perché sono più istituzionali che muovono questo mercato che ragionano su questo mercato e l'open interest addirittura del future cme quello che resta chiuso sabato e domenica per intenderci ha superato quelli di di binance ed è interessante vedere questa cosa ora qui vedete in maniera chiara anche un'altra questione non c'è stata una vera chiusura strutturalmente una vera chiusura ciclica qui quindi però abbiamo fatto un minimo a 36 e 5 in close nulla vieta come vi dicevo questa settimana magari di andare a chiudere a 36 e 2 una cosa del genere 36 e chiudere questa struttura in questo modo così potrebbe essere interessante c'è anche da dire che se guardiamo le close il ciclo trimestrale di questo grafico che è diverso dal grafico spot è iniziato vedete sulla questa struttura a 28 di agosto non è iniziato più in là poi il minimo vero l'ha fatto il 11 settembre però teoricamente e anche qui c'è un minimo disegnato però teoricamente a livello settimanale c'è anche una data precedente quindi tutta questa zona è una fase ciclica perciò se noi facciamo ricadere sul settimanale abbiamo comunque su questo minimo 77 giorni è un po' prematuro sono un po' dei ragionamenti che secondo me lasciano il tempo che trovano per cui io ragiono un po' sul fatto che è meglio attendere ragazzi però c'è un dato rilevante cioè la ancora una volta struttura di congestione che è andata a chiudere un vecchio gap settimanale molto importante che è stato questo e poi dopo il superamento del gap in zona 35 36 siamo arrivati a questa fascia di struttura di prezzo che è pari a un rimbalzo un rialzo del 55% dei minimi toccati ad ottobre qui vi ho segnato anche i livelli teoricamente se ripetiamo quello che abbiamo fatto negli anni precedenti il punto di arrivo di 42.000 quindi 68% di rialzo dei minimi potrebbe essere appetibile e in effetti io vi ho anche disegnato un'area temporale non di prezzo ma di tempo questa qui ragazzi quindi intorno alla fine dell'anno potrebbe essere il nostro target tra le altre cose nella mia previsione fatta più di un mese fa vi avevo indicato zona 38 3940 quella zona lì veramente 3940 come punto d'arrivo nel 2023 possibile un target accettabile ci siamo andati vicino ai 38.000 vediamo se riusciamo a beccarla in pieno anche questa volta detto questo ragazzi io vi ricordo il webinar rimmancabile vi lascio il link della pagina dove iscrivervi per il webinar del 22 di novembre alle ore 18 parleremo proprio di come gestire un'eventuale alt season in merito anche a quel grafico che vi ho fatto vedere immancabile e soprattutto vi voglio presenti per le domande perché dobbiamo confrontarci su tante cose rispondere chiarire tanti tanti dubbi e poi sorpresona finale vediamo che cosa succede questa settimana se facciamo questa congestione e poi a quel punto pronti per una nuova ripartenza voi che ne dite nei commenti scrivetemi anche la vostra idea soprattutto su questa questione ciclica di bitcoin è interessante sapere ognuno di voi anche quello che pensa veramente interessante ci vediamo mercoledì immancabile alle ore 18 buon inizio settimana a tutti a tutti a tutti